Studio sull'invecchiamento. L'Università del Piemonte Orientale organizza un appuntamento su questo tema, presentando alcuni risultati del progetto Aging Project e le prospettive future. L'appuntamento è per il 3, 4 e 5 ottobre all'Auditorium Gaudenzio Cattaneo in Via Perrone. Durante la giornata, presso desk dedicati, sarà possibile ricevere informazioni e materiale divulgativo sugli studi in corso. Grazie a tutti.